Stiamo in attesa di Ron perché Mirella l'abbiamo appena appreso e ha girato un film con Ron. Sì, ho fatto un film nel 1978 ed è un film sulla cultura siciliana, sui pubi siciliani, con Riccardo Cucciolla che è un grandissimo attore. Noi eravamo giovenissimi di Ron, io avevo 19 anni e lui qualche anno in più. E quindi non lo vedo da allora perché ho vissuto 23 anni a Londra, anche se poi dopo il film con Ron ho lavorato con Dario Argento, con Fellini, con Colin Firth, con Albert Tazzi in teatro, con Claudia Cardinale. Insomma, moltissimi lavori molto belli. Ho perso di vista Ron da circa 40 anni. E oggi voglio fargli una sorpresa, non so se mi riconosce, quindi ho portato i poster. Si possono vedere? Sì, si possono vedere. Eravamo, perché 40 anni fa eravamo diversi, anche se lui è uguale, però io ero questa qua. Ecco qui. Questa qua insieme a Ron. Ecco Ron. Caspita. E adesso si arrabbierà e dice ma chi è quella? Mai non è. Facciamo una caramba che sorpresa. Non è bella, non è bellissima. E questa è l'altra locandina? Ah, l'altra locandina vuoi vedere? Aspetta. Sì, sì. Lascio questa? No, questa gliela lascio a lui se la vuole, non so se ce l'ha. Te ricordo. Ah, i tu riparaturi. E anche come dicevi, come tu dicevi, quando abbiamo girato questo film in Sicilia, Ron era sempre con la chitarra. Era sempre con la chitarra e io mi ricordo delle cose meravigliose perché un cuore grandissimo ci aveva allora e l'ho in tutti questi anni. Io poi ho lavorato come attrice, poi sono andata a vivere a Londra, però ho sempre visto questa parte sua straordinaria. E' stato accopo. Bene. Dirella, ti ringraziamo tantissimo. Ciao, ciao. Grazie a voi. Ci vediamo sul quarta parete. D'accordo? Ok. Ciao, ciao. Grazie a te. Ciao, ciao.